buongiorno a tutti sono ivano morelli responsabile della nord imbiancature da settembre chiunque riceverà la nostra pubblicità in casella avrà dei vantaggi grazie a voi che siete in tantissime che ci chiamate siamo riusciti ad abbassare i prezzi dell'imbiancatura riportarli da 600 del monolocale a 480 e così via per il bilocale il trilocale e il quattro locali questo per riuscire ad avere molti più clienti ed accontentare tutti quanti assegnandoci più lavori nonostante abbiamo abbassato i prezzi stiamo avendo una crescita importante ora voglio farvi vedere come si conclude un contratto con la nord imbiancature avete trovato questa lettera in casella benissimo ci chiamate noi facciamo un sopralluogo a volte su lavori piccoli bastano delle foto e dei video si possono acquistare dei pacchetti dobbiamo adesso abbiamo quasi prezzi del pacchetto che abbiamo sul sito quindi sui pacchetti in realtà c'è poco poco margine di risparmio perché veramente abbiamo già dei prezzi ottimi dietro alla lettera che avete ricevuto c'è un contratto adesso vi faccio vedere come funziona è semplicissimo basta compilarlo il sottoscritto luca rossi proprietario affettuario dell'immobile sito in via milano numero 5 comune di cernusco sul naviglio provincia di milano conferisce l'incarico di imbiancatura la ditta nord imbiancature divano umberto morelli alle seguenti condizioni mettiamo caso che avete un bilocale quindi bilocale 680 euro più iva lavabile a fine lavoro semplicissimo poi qua abbiamo uno spazio bianco dove possiamo aggiungere delle note ad esempio inizio lavori il viene richiesto un acconto per l'accettazione la validità dell'accettazione dell'offerta quindi a conto euro la restante parte come c'è scritto il 50 per cento dell'importo il giorno di inizio lavori il saldo alla fine poi segniamo sempre il contatto del cliente un numero di telefono qua in alto a destra e poi qua sulla destra si possono aggiungere degli extra come ad esempio verniciatura porte verniciatura caloriferi eccetera eccetera facilissimo ecco come potete collaborare e lavorare con la nord imbiancature grazie del tempo che mi avete dedicato saluti da ivano amorelli